Vorrei un po' tranquillizzare tutti i nostri cittadini e frequentatori dei nostri boschi che sicuramente devono mantenere alta sempre l'attenzione, ma soprattutto questo è un percorso che la Polizia Provinciale nostra ci segnala da tempo. Terminato il letargo, gli ursi ricominciano a transitare nel bellunese. Tracce del passaggio del Plantigrado sono state scoperte ieri a Casera Palantina, nella conca dell'Alpago e questa mattina a Casera Razzo, in comune di Vigo di Cadore. In entrambi i casi, dicono gli esperti, si tratta di esemplari maschi giovani espulsi dagli areali di maschi più adulti durante il periodo dell'accoppiamento. In primavera i maschi transitano orsi nel nostro territorio per girare nella parte dell'Europa e quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto. Le immagini che vi mostriamo risalgono una decina d'anni fa, quando le fototrappole della Polizia Provinciale immortalarono un giovane orso proprio nella zona di Casera Razzo. In questa foto invece siamo nell'area del campo da vasche della colonia di Palù San Marco ad Auronzo di Cadore, poco distante dalla stazione forestale. L'immagine risale all'aprile di tre anni fa. Un territorio monitorato, quello della provincia di Belluno, dove si osserva l'esatto contrario di quanto accade nei territori con termini di Trento e Bolzano. La provincia autonoma ha fatto delle vere e proprie campagne di ripopolamento, mentre noi ci siamo, diciamo così, adeguati a un paesaggio selvaggio e soprattutto anche a un controllo abbastanza ferreo da parte della nostra Polizia Provinciale con il quale abbiamo condiviso anche dei percorsi formativi nei confronti dei cittadini che io sollecito a partecipare ad eventi anche che possono riguardare l'upo, l'orso, ma anche tutta quella che è la fauna che attraversa il nostro territorio. In questi giorni nella Sala Presidenza Palazzo Piloni è stato esposto un lupo imbalsamato a scopo didattico. Si tratta dell'esemplare investito e ucciso lo scorso anno in Val di Zoldo. Abbiamo deciso di metterlo qua anche per chi vuole venire a visitare il nostro palazzo. È un esemplare sicuramente unico. Il lupo è un altro tema, secondo me, che va affrontato con grandissima attenzione, soprattutto conoscenza, perché abbiamo il dovere di cercare di far convivere l'essere umano al lupo. Io mi rendo conto che per molti non è facile, soprattutto per chi nel nostro territorio ha avuto dei danni enormi. Dobbiamo cercare adesso veramente di intervenire anche con degli investimenti che possono aiutare tutti questi proprietari a far permettere una convivenza tra il lupo e l'essere umano.